San Lorenzo Maggiore sulla bocca di tutti per un episodio increscioso che è accaduto negli ultimi giorni. Il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo, non trovando più il suo telefono cellulare, ha pensato che fosse stato uno dei studenti ad averlo sottratto a lui, quindi ha costretto loro a rovistare nei loro zaini per dimostrare di non essere dei malfattori. Questa notizia ha fatto il giro prima del paese e poi dell'intera provincia e si sono ribellati i genitori che si sono riuniti insieme al sindaco del comune Carlo Iannotti per discutere di questo episodio e prendere le dovute dimostranze rispetto a quello che è successo. Ci dispiace perché quando alcuni genitori e poi mano a mano sono diventati sempre di più mi hanno riferito questo spiacevole episodio, io ci sono rimasto veramente male perché non mi sarei mai immaginato che una persona potesse arrivare a tanto. Per cui sono molto deluso, noi non ci fermeremo, andremo avanti perché queste cose non devono succedere e perché non succedono queste persone non possono più ricoprire incarichi pubblici. Non è la prima volta che il dirigente si fa notare per uscite di questo tipo? A me dispiace, questa non è una guerra contro la persona, è contro un certo modo di fare, un certo autoritarismo ha caratterizzato la sua gestione, sta continuando a farlo e si vede in tutti i comportamenti, in tutti gli atti che lui compie. A me dispiace perché comunque ci sono delle persone, però qua mi dispiace ancora di più per i bambini, per quello che è successo. Non sta a me decidere se questa persona debba ricoprire o meno incarichi pubblici, dovranno valutare gli enti, i preposti, se questa persona può continuare oppure no. Chiedo al genitore e non al sindaco, fosse successo ad un suo figlio di essere accusato di una cosa del genere, come l'avrebbe presa? Io mi metto nei panni degli altri genitori e devo dire che sono stati già ben troppo educati perché hanno avuto una reazione, diciamo, ci sono rimasti molto male, anche perché hanno visto i bambini che sono tornati a casa, qualcuno pure piangendo per quello che era successo, si sono comportati bene, mi sarei comportato come hanno fatto loro. Avrebbero chiesto innanzitutto al presi delle scuse, ma purtroppo ci siamo resi conto che non è nel suo essere chiedere scusa e già questo è grave perché ognuno di noi può sbagliare, si possono commettere errori e quando succede questo bisogna essere così, diciamo, obiettivi e così meno presuntuosi da saper chiedere scusa. Mamme agguerrite, giustamente ferite nell'orgoglio, pronte a battagliare pur di far luce sulla vicenda, unite nel volersi far giustizia attraverso le carte ed una raccolta di firme. Un peccato non aver potuto dar loro voce, per una sorta di umertà nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda, scelta comprensibile fino ad un certo punto, anche perché di mezzo ci sono i bambini, i loro figli.